Il calcio mercato è appena iniziato. In Serie C sembra destinata a prevalere la scelta dei giocatori di qualità. Ci sono società che si sono mosse abbastanza presto e altre che invece si prenderanno tutto il tempo necessario per poter fare le rispettive valutazioni. Dopo che la Cavese ha ingaggiato il forte centrocampista Luca Lulli, calciatore classe 91 che si è legato alla società con un contratto biennale, la società aquilotta si muoverà anche per l'esterno destro Riccardo Spaltro, che ha 20 anni e ha già vinto un campionato di Serie D con l'Arzignano, tutto ciò aspettando la chiusura con il bomber Badreddin Eluazni. Il club metelliano ha ufficializzato inoltre l'assunzione di Gerardo Grottola, a lungo opinionista per le nostre trasmissioni sportive, come allenatore della Juniores nazionale della Cavese. Si è mossa con un colpo in prospettiva la Virtus Francavilla, che ha preso l'attaccante Giuseppe Cianci, nato nel 2000, che nell'ultimo campionato si è diviso tra Milano City e Casarano. Calciatore molto prestante, può giocare esterno a sinistra. Ma sul sicuro c'è andata la ternana del presidente Bandecchi, che ha infatti ingaggiato il difensore centrale Simone Sini e il fluidificante Carlo Mammarella. Tutti e due sono tecnicamente dotati e sanno anche vedere la porta avversaria con il loro sinistro. Il Teramo a sua volta ha ingaggiato l'allenatore trevigiano Bruno Tedino, che sostituisce l'ex bianco-blua Genore Maurizzi. Il Bari si prepara a definire un colpo in entrata. La linea mediana dovrebbe essere coordinata da un nigeriano, Michael Foloruncio, reduce da due annate ottime alla Virtus Francavilla. Tra le squadre campane anche la casertana ha fatto il colpo. Dicevamo di Mohamed Laribi, ex Roccella Erende, originario del Nord Africa ma cresciuto a gioiosa Ionica. Può giocare esterno destro ma anche da mezzala. In questi due giorni in cui sono stato a Caserta ho toccato con mano una fame e un senso di appartenenza incredibili. Sono grato a chi mi ha dato questa grandissima possibilità. Ho molta voglia di mettermi in evidenza e di vedere gioire i tifosi della casertana. Sono parole rilasciate dal giocatore attraverso l'ufficio stampa dei Falchetti. Prossimi rinforzi potrebbero essere l'esterno destro, Gioele Origlia, e il difensore Marco Caldore. La situazione dell'Avellino invece pone il club in una condizione di immobilismo. Il patron Gianandrea De Cesare proverà a vendere sia la società di calcio sia quella di basket, lo scandone, e tutto questo a causa dell'istanza di fallimento per la Sì di Gas giunta su richiesta della procura di Avellino, causa sospette irregolarità contabili in bilancio. Le società sportive sono in cessione gratuita, come ha avuto modo di spiegare il sindaco di Avellino festa. Al momento il contratto dell'allenatore dell'Avellino Buccarò, che ha riportato la squadra in C, è da intendersi scaduto.